mancano poche ore al 2022 sono in compagnia col direttore della tecnica della scuola alessandro giuliani per fare il punto sul nuovo anno alessandro buongiorno buongiorno che anno ci aspetta quale sarà la scuola del 2022 sarà ancora una scuola della pandemia cioè continueremo a parlare di vaccini e di misure anti covid eh sì siamo ormai in piena quarta ondata il vaccino eh abbiamo visto che riduce le conseguenze ma non protegge dai contagi eh lo dicono i numeri lo dicono eh le statistiche eh i casi di contagio sono aumentati le classi in dad ormai sono ben oltre i dieci le diecimila unità e il governo sì sta puntando sui vaccini ma eh ci sono insomma tanti problemi il distanziamento è solo raccomandato le classi non sono state ridotte le le areazioni problemi insomma di cui si era tanto parlato nella scorsa estate eh i locali delle scuole continuano a non essere areati se non tramite le finestre quindi in modo naturale e soprattutto gli spazi sono sempre gli stessi e abbiamo tra l'altro eh una mancata applicazione eh sui casi di positività il un mesetto fa il eh il commissario straordinario Francesco Figliolo aveva preso un accordo con Palazzo Chigi eh laddove eh vi fosse un caso o più casi di tamponi eh l'esercito sarebbe dovuto intervenire questo non è mai avvenuto e si è continuati ad andare in dad anche con un solo studente positivo non parliamo dei trasporti è un problema quello ormai endemico i trasporti che portano anche gli studenti a scuola nei grandi centri continuano a far a far viaggiare come prima del covid a questo punto eh il problema eh della didattica a distanza il nodo di cui si è parlato molto negli ultimi giorni eh sebbene dal ministero e lo stesso premier dicano che non eh non se ne parla comunque il rischio c'è ed è ed è tangibile Alessandro un pronostico sul ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi nell'ipotesi che Draghi vada al colle c'è da aspettarsi che il ruolo del che il ministro insomma verrà sostituito o o ha un addietro un un sostegno forte? Beh tutto dipende dalla tenuta del governo se si la se si arriva a fine legislatura eh se si fa se insomma se si arriva alle elezioni anticipate in questo caso per il ministro Bianchi significherebbe l'addio sicuramente a Viale Trastevere e diciamo che al momento la posizione è sicuramente forte e solida ma eh se eh il premier l'attuale premier Mario Draghi dovesse essere come eh insomma possibile eletto come in qualità di nuovo presidente della Repubblica e appunto si dovesse andare a elezioni eh appunto a quel punto si mescolerebbero sicuramente tutte le carte e io ho qualche dubbio che eh comunque tutti i parlamentari eh o comunque buona parte dei parlamentari siano d'accordo con questa soluzione eh ricordiamoci che eh le nuove eh il nuovo Parlamento prevede la metà di senatori e deputati quindi significa che moltissimi degli attuali parlamentari non verranno riconfermati e insomma eh andar via un un anno prima eh non è la stessa cosa. Alessandro a che punto siamo col contratto nazionale? Possiamo ipotizzare che nel duemila e ventidue si sblocchi la situazione? Beh eh sì sicuramente si sbloccherà ma non ci sono buonissime notizie siamo fermi a meno meno di cento euro lordi a dipendente eh rispetto ad altri comparti la scuola ricordiamo che deve fare i conti con il problema della della perequazione cioè la copertura utile a salvaguardare gli stipendi inferiori e inferiori ai ventisemila euro nella scuola ce ne sono tantissimi sono quasi tutti gli ATA, moltissimi docenti, tutti precari quindi e questa quota batte e quello che è attorno ai cento quindici cento venti euro lordi per altri comparti pubblici ecco al momento con le tre finanziarie ultime siamo appunto nemmeno a cento euro lordi per la scuola e servono risorse fresche per il nuovo contratto duemila diciannove ehm duemila per il vecchio duemila diciannove duemila ventuno la partita è chiusa per il nuovo eh insomma eh non non ci sono buone prospettive eh quindi insomma continuare a parlare di stipendi europei stipendi allineati alla Germania insomma siamo veramente nel nel eh nell'utopia eh se i sindacati si accontentano in primavera probabilmente arriveremo a un rimuovo contrattuale ma aspettiamoci cifre modeste cioè non non possiamo eh sicuramente eh pensare eh ai alle tre cifre nette di cui si è parlato a lungo e che ricordo giusto esattamente in questi giorni due anni fa era il motivo è stato il motivo per i per cui Lorenzo Fieramonti allora ministro dell'istruzione ha lasciato l'incarico proprio perché eh c'è stato ci fu in quel contesto uno scarso eh uno scarso investimento anche per il rinnovo del contratto dei dipendenti della scuola. Ecco una cosa c'è da dire eh veramente trenta secondi sul fronte normativo eh del rinnovo contrattuale eh dobbiamo aspettarci delle novità soprattutto sul fronte della disconnessione eh perché è importante perché al momento eh in fase soprattutto di eh emergenza covid la disconnessione per gli insegnanti di fatto non avviene ecco in altri comparti è stato ribadito nel contratto ebbene che questo avvenga anche in quello della scuola. Alessandro facciamo un breve punto sui concorsi per questo eh anno duemila e ventidue sappiamo che è appena partito il concorso ordinario si è sbloccato il concorso ordinario infanzia e scuola primaria ma che ne è del concorso ordinario per la scuola secondaria e che ne è del concorso straordinario del concorso abilitante di quello per dirigenti tecnici o per dirigenti scolastici? Allora innanzitutto il concorso comunque della scuola dell'infanzia eh ricordiamo per circa ventidue mila posti e centomila partecipanti eh insomma eh è solo all'inizio perché è stata svolta la prova la prova scritta moltissimi docenti non si sono presentati e e andiamo incontro sicuramente a una a delle prove suppletive eh già ci sono state delle sentenze per coloro che hanno fatto ricorso e che eh che in qualche modo hanno appunto non si sono presentati per via del eh problemi legati alla pandemia al covid e alle quarantene. Sui trentadue mila posti della secondaria ci attendiamo sicuramente nei primi mesi del duemila ventidue eh insomma eh una una attivazione da parte del ministero c'era una promessa del ministro stesso che sarebbe iniziato il concorso della secondaria a fine duemila ventuno questo non è avvenuto sicuramente sarà un concorso più snello sulla falsa riga di quello che è già stato fatto anche eh con lo stemme certo non sarà semplicemente a risposte chiuse però insomma ci ci aspettiamo un concorso meno eh meno rigido meno nozionistico meno lungo anche soprattutto in linea con quella che è la nuova eh la nuova normativa imposta dal ministro Renato Brunetta in tutta la pubblica amministrazione. C'è moltissimo interesse ricordiamo mezzo milione passa di domande per trentadue mila posti e ripeto credo che sia imminente. Per quanto riguarda quello dei dirigenti tecnici e anche scolastici c'è un confronto con i sindacati sono state presentate delle bozze ma siamo fermi lì non si hanno certezze. Io mi soffermerei sui corsi di abilitazione anche in questo caso c'è stato eh un molto interesse eh circa eh settantamila domande se non ricordo male un anno e mezzo fa moltissimi altri altri vorrebbero eh attingere e avere possibilità di poter fare eh questo concorso questo corso abilitante che ripeto è fondamentale per il percorso che porta poi a ruolo eh non accontentare questi insegnanti questi precari eh ad abilitarsi secondo me sarebbe un errore perché c'è tanto bisogno soprattutto in alcune discipline scientifiche e tecniche. Eh un capitolo a parte riguarda il sostegno tantissimi posti liberi ogni anno ne vengono assegnati sessanta settantamila la maggior parte vanno a non specializzati bisogna insistere e il settimo corso di TFA è un buon segnale eh secondo me eh bisogna iniziare a specializzare non meno di cinquanta e sessantamila l'anno eh perché? Perché tra l'altro non dimentichiamo che ogni cinque anni dopo cinque anni dalle emissioni ruolo il personale con sostegno ha facoltà e in molti casi lo fa di tornare su disciplina quindi eh questo si va aggiungere anche le diecimila iscrizioni l'anno e quindi in più eh quindi il problema sul sostegno rimane ed è tangibile. E mi allaccio a quello che hai detto quindi parliamo di emissioni in ruolo. Nel duemila e ventidue porteremo in cattedra a settembre un numero adeguato di docenti? Allora eh il ministro ha presentato un piano, ha parlato di centomila assunzioni eh a mio modo di vedere il problema non è questo eh non è il via libera del MEF. Gli ultimi tre anni sono emblematici. Lo scorso anno avevamo più di centomila assunzioni accordate dal Ministero dell'Economia, mi sono state fatte eh poco più di cinquantanove mila quindi la metà. Eh nel duemilaventi, nel duemiladiciannove addirittura la metà della metà. Questo perché mancano eh candidati e si continua ad attingere dalle graduatorie eh a disposizione con abilitati con molta eh molta eh come dire eh parsimonia sì parsimonia e basta ricordare quello che è avvenuto con le GPS, dodici mila assunzioni, quell'anno scorso ma sedici mila cattedre sono avanzate. Ecco bisognerà allargare sicuramente le assunzioni da GPS, ridurre i vincoli eh ridurre soprattutto quello dei tre anni di servizio, magari procedere come su sostegno e senza servizio perché bisogna cambiare le regole. Se non cambiano le regole, se non si eh attinge direttamente dai graduatorie, non si abilita, non si specializza e a questo punto la situazione rischia di rimanere immutata. Alessandro la criticità delle classi pollaio, basta eh pensare a affidarsi al calo demografico per risolvere questo problema? Allora il calo demografico è tangibile, abbiamo quattrocentomila ormai nati l'anno, meno della metà di quando eh avevamo assistito al boom demografico, nella scuola si perdono tra i cinquanti e i settantacinque mila iscritti, eh non è un buon segnale eh però eh come dire eh la scuola sta tenendo nel senso che eh gli organici eh continuano a essere mutati, quello che purtroppo invece continua a rimanere tale è il numero di eh di eh alunni per classe. Eh si parla tanto di classi pollaio eh da ventisette in poi eh sono circa quindicimila i i ragazzi concentrati nella stessa classe, non ci siamo soprattutto in tempo di covid è un'assurdità e quel problema è che continuano a essere in eh in vigore i parametri minimi per la formazione imposti con il dimensionamento dell'ultima legge Gelmini, quindi ricordiamo diciotto alunni all'infanzia, quindi c'è la primaria, diciotto alle medie, ventisette alle superiori. Spesso eh si arriva anche a oltre trenta eh in caso di disabili, presenza di disabili non si dovrebbe superare quota venti ma eh la norma eh spessissima girata eh morale le classi pollaio eh continuano a esserci, a formarsi eh c'è un impegno nella legge di bilancio duemilaventidue eh a eh derogare a questi numeri ma solo per le scuole più svantaggiate e dove il tasso di dispersione scolastica è alto e quindi diciamo in territori al sud, in territori disagiati. Eh tutto questo eh non andava eh diciamo eh a mio modo di vedere eh ristretto solo a queste circostanze ma allargato a tutti eh a tutte le regioni. Ricordiamo che l'alto numero di eh di alunni per classe è anche uno dei motivi per cui le competenze eh non sono più eh elevate come vent'anni fa, le competenze acquisite dagli alunni, abbiamo il record di NIT e soltanto ecco un ultimo appunto ricordo che ogni anno ci sono 70-80 mila posti ad alta specializzazione che rimangono liberi, cioè le aziende non riescono a a trovare eh ragazzi eh specializzati e questa secondo me la vera scommessa da vincere, il ministro lo sa bene, non a caso vuole rilanciare tecnici e professionale, depubblicare gli ITS. Anche in questo caso a mio modo di vedere il 2022 sarà l'anno della verità. Bene, grazie Alessandro Giuliani, direttore della tecnica della scuola, a tutti i lettori e alla scuola tutta, buon 2022 dalla tecnica della scuola. Grazie. 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 Grazie.